Hai pigiato play, non pigiare stop Qua si fa l'appello raga, è tornato il prof Non pigiare stop, se hai pigiato play Che insieme al prof stasera suona Jacopo DJ Siamo in camerino, là c'è la console Se Jacopo ci va si balla tipo al Super Bowl Tutto è pronto per la festa, fammi solo un'acqua tonica Merda, sempre visto, barriera architettonica Ma nemmeno ragazzi, non sapevo dove vuol stare a casa Zio, nessuno ci impedirà di raggiungere la console Ho un'idea Dice che la matematica non serve a niente Dice che la fisica non serve proprio a niente Modellizziamo Jacopo in un punto materiale E lo scalino qua come un'altezza da scalare Supponiamo per esempio che abbia massa M Puggetto su di un piano, deserto di Betlemme Alziamola da terra fino a un'altezza H La massa è molto grossa, professore porca vacca Quanto pesa, sorpresa E invece no è banale MG con G, accelerazione gravitazionale E la forza peso frate in questo caso ti è nemica Ti schiaccia a terra quasi come fossi una formica Vorrei andare alla console Un momento ragazzi Si balla tipo il Super Bowl Si vuole pazienza Vorrei andare alla console Si balla tipo il Super Bowl Ragazzi così non riesco a riflettere per piacere Mi mettono pressione, ma senza soluzione E Jacopo DJ non può suonare la sua canzone Ma inchinate via la scienza, il momento è arrivato Le mani al cielo raga per il piano inclinato Si ha alfa, angolo minore di 90 L'angolo famoso di cui la paura è tanta Il motivo si sa, domandare inopportuno Che il seno di alfa è più piccolo di uno Se scompongo il peso nelle due direzioni Tangente normale come fanno i campioni Seno di alfa per M per G Bella zio, anche mio nonno ci riesce così Giacopo DJ non lo sa Si balla tipo il Super Bowl Giacopo Pino alla console Ragazzi aprite bene il mare Si balla tipo il Super Bowl Che gli appopino a qualcosa da dirvi Scale uguale, corse a ostacoli Tipo piovra che ti blocca con i suoi tentacoli Che non ti molla, mamma mia si incolla Ma col piano inclinato Bella zio si decolla E altrimenti non mi zainto nì nero nì pare Tutto quello che è tempice, Roma normale Tutti in pista sulle mani di una cosa Son sicuro che un mondo più accessibile Fa rima con futuro Giacopo Pino alla console Si balla tipo il Super Bowl Giacopo Pino alla console Si balla tipo il Super Bowl Giacopo Pino alla console Si balla tipo il Super Bowl Giacopo Pino alla console Si balla tipo il Super Bowl Ciao ragazzuoli, ecco allora i compiti per casa questa volta ve li do io Se Jacopino ha massa M, il piano è inclinato di 30 gradi, qual è la forza da applicare a Jacopino per raggiungere la console? Mentre voi ci pensate io intanto apro la app e mi riascolto il pezzo a manetta perché tanto con la Platinum incluso ho lo streaming illimitato senza consumare giga Ciao amici, ciao!